Pacchetto numero 1 Benvenute nell'ufficio dei consigli di Natale Io sono Margherita, esperta di regali Sempre pronta a trovare un sogno nel pacchetto Per tutte le bambine che amano le principesse Disney come me Vediamo chi mi scrive La mia amica Gaia sogna di partecipare ad un gran ballo Proprio come cenerentola Come posso aiutarla? Pacco pacco del mio Natale Ecco il regalo perfetto per emozionarsi a ballare Wow! Il vestito Rubis di cenerentola è esattamente come quello della principessa Disney Ha il raso azzurro, le maniche a palloncino e un bellissimo velo pieno di paillettes Con questo abito Gaia potrà volteggiare ogni volta che vorrà Sentendoti sempre la più bella del ballo come cenerentola Ecco qui, desiderio express in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto Ciao!